Si pensa già ad una fiaccolata nella strada dove ha perso la vita a soli 19 anni Edoardo Bernardi. A dirlo Romina Ceccato, presidente dell'Associazione Alba, che si è sentita nell'ultime ore con la mamma di Edoardo, Maria Celeprin, ancora sotto shock per la morte improvvisa del figlio. Una scia di luci per ricordare Edoardo e per porre ancora una volta l'attenzione sul tema della sicurezza stradale dopo l'ennesima morte sulle vie del Veneto. Erano circa le 13.30 quando Edoardo stava percorrendo a bordo della sua moto un'onda CB650R, la strada metropolitana 59 che da Sanstino di Livenza porta verso Porto Santa Margherita, località di Caorle, dove si era trasferito da poco con la famiglia. Edoardo frequentava l'ultimo anno del liceo economico-sociale al Marco Belli di Portogruaro, dove a giugno si sarebbe diplomato. Quando alcuni docenti sono entrati nelle loro classiche per fare una classica lezione e hanno visto studenti piangere, beh, lì abbiamo capito quanto lui all'interno dell'istituto fosse conosciuto. Edoardo sapeva intessere buone relazioni, belle relazioni. Era un ragazzo di compagnia e viveva la compagnia in modo sano. Edoardo era schietto, era una persona genuina, sincera. Quando lo guardavi, quando lo vedevi, riuscivi a capire chi lui era. Questa mattina in classe i compagni e amici si sono raccolti attorno al banco di Edoardo, rimasto vuoto. Ognuno di loro, penna alla mano, ha scritto un suo ricordo. Gli studenti oggi abbiamo fatto un'attività un po' terapeutica, se così si può chiamare. Quando ci siamo incontrati questa mattina, ovviamente il pianto è stato un po' l'accoglienza. Ne è uscito fuori un ritratto di Edoardo, giustamente vissuto da loro come un grande amico. Una sottolineatura che molti hanno fatto, e direi molto importante, che nei momenti in cui loro potevano trovarsi in difficoltà, hanno trovato in Edoardo una persona con la quale ci si poteva confidare. Appassionato delle due ruote, per molto tempo aveva frequentato la società sportiva di ciclismo Mottense, praticando per anni anche da agonista. Sono scossa anch'io. Lui è iniziato con noi da giovanissimo, con la Mottense, ha fatto due anni di esordiente, due anni di allievo, e poi ha deciso di smettere a correre. È a bordo della sua bicicletta che la società lo ricorda con un po' scommosso. Tante le persone che sotto hanno lasciato una parola di conforto, anche la famiglia sconvolta dal dolore. Lo legava alla marca l'attività di cui il pad è un social pub ai Templari di Susegana, dove ogni tanto lavorava. Ancora da definire la data dei funerali.